Beh, innanzitutto il deserto è il luogo dell'assenza della parola, non c'è nessuno nel deserto, non c'è acqua, non si trova subito, non c'è cibo, non ci sono amici, non ci sono ospedali, non ci sono appoggi, non c'è la tua famiglia, no, non vado ad abitare nel deserto la tua famiglia. Eppure nella Bibbia il deserto diventa proprio il luogo della parola, la parola parola in ebraico è dabar, la parola deserto è midbar, quindi nella parola deserto c'è anche la parola parola, dabar, infatti l'etimologia, il significato della parola deserto è il luogo della parola, Cioè nella Bibbia è nel deserto che tu incontri Dio, è nel silenzio, è dove non ci sono più appoggi, dove tu non cerchi, dove non stai sempre col cellulare in mano, come si fa a pregare? No, se ho sempre il cellulare in mano, perché una cosa è che gli altri ti distraggono, è una cosa che tu invece che noi preghiamo con le distrazioni addosso che noi, noi, noi decidiamo queste distrazioni. Grazie.